Se due indizi fanno una prova, figurarsi tre. Storia in pillole dei primi passi di Kevin Lasagna con la maglia del Bari cucita sulla pelle. Dopo aver segnato due gol al Frosinone, aver graffiato la Salernitana, l'attaccante arrivato dal Verona in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione si è ripetuto anche nel test a porte chiuse giocato sabato scorso al San Nicola contro il Giuliano, formazione che nella prossima stagione sarà impegnata nel girone C di Serie C. Prima è andato in rete con un tocco preciso dopo sette minuti su invito di Sibilli, quasi il replay dell'azione che tre giorni prima l'aveva portato a battere Sepe della Salernitana. Al ventiquattresimo ha messo il piede nel raddoppio di Sgarbi e al trentaseiesimo ha servito l'assist per il tris di Favasuli a modo suo. Fuga in solitaria a sinistra, cross radente e invito sfruttato dal compagno di squadra. A poco più di due settimane dal suo arrivo nel ritiro di Roccaraso, operazione condotta in sordina dal duo Magalini di Cesare, la Sanni ha fatto già vedere alla piazza buona parte del repertorio che l'aveva portato in Serie A con il Carpi e in nazionale ai tempi dell'Udinese. Scatto bruciante, attacco della profondità e sinistro violento. Moreno Longo lo ha presto messo in rampa di lancio da riferimento più avanzato nel suo 3-4-2-1. Lui ha risposto dimostrando voglia di rimettersi in gioco dopo l'esperienza in chiaroscuro con il Fatih Karagum Ruk in Turchia, archiviata con due reti in 28 partite e la retrocessione in seconda serie, con l'audo superato verso la prima partita ufficiale in programma sabato alle 18 a Cremona in Coppa Italia. Quel giorno Lasagna festeggerà 32 anni e senza dubbio vorrà farsi il primo regalo sotto forma di gol in una partita ufficiale con il Bari, dopo i quattro centri nelle prime tre uscite estive. Al match in Lombardia, Longo ci arriva con le consapevolezze assicurate dalle 6 amichevoli giocate in 20 giorni e dopo aver accolto tra i pali Boris Radunovic, primi 90 minuti con i nuovi compagni di squadra per il portiere arrivato dal Cagliari decisivo con il Giuliano nel finale su Peluso e impotente sul destro imparabile con cui Jean Bé lo ha battuto dai 25 metri al 79esimo per il definitivo 3-1. Il calciomercato sarà chiamato a garantire quel poker o pokerissimo di rinforzi ancora assolutamente necessario. Intanto, tra le certezze del Bari, si sta facendo largo Lasagna e per qualcuno in città è già Kevin Mania.